Buongiorno a tutti, sono Davide Falteri, sono il Vice Presidente di Federlogistica, Federlogistica è l'associazione degli operatori logistici e tutti quelli che sono gli operatori portuali e retroportuali che lavorano appunto nel settore della supply chain. L'economia del mare è ovviamente per il nostro Paese fondamentale, noi viviamo in un Paese che è ad oggi sta avendo un impulso notevole nello sviluppo della logistica grazie all'avvento dell'e-commerce, quindi andare a valorizzare tutti quelli che sono gli operatori che operano vicino ai grandi porti e qui a Genova abbiamo il primo porto d'Italia, uno dei porti strategici a livello del Mediterraneo, vuol dire chiaramente dare impulso non solo allo sviluppo della città, non solo allo sviluppo dell'Italia ma allo sviluppo dell'Europa. A Genova abbiamo la fortuna di avere questo porto che è in crescita, è in crescita grazie a due infrastrutture che è quella materiale data appunto dalle opere che sono in divenire, mi riferisco alla Diga, al Terzo Valico, a quella che sarà la Gronda, raddoppio della rete ferroviaria che sono comunque tutte opere materiali essenziali ma abbiamo anche un nuovo porto digitale dato dall'arrivo del cavo to Africa e della società Jedis che gestisce lo switch dei dati che rendono competitivo il venire a insediare la propria sede a imprenditori del digitale qua a Genova. Il connubio digitale e logistica offrono un modello che può permettere di efficientare il ciclo logistico portuale e questo può permettere chiaramente di aumentare i volumi e di far crescere l'economia. Quindi crediamo fortemente nella Blue Economy e facciamo di tutto per poterla sostenere e diffondere tra gli operatori del settore tutti quelli che sono consapevolezze e strumenti per poter vincere le nuove sfide.